Tra gli argomenti del convegno anche quello dell'influenza sulla salute umana delle nanoparticelle. A parlare di questo tema la ricercatrice Antonietta Gatti, uno dei massimi esperti, essendo stata la prima al mondo a individuare la loro natura e l'incidenza che possano avere sugli uomini. Qual è l'influenza sulla vita dei cittadini, con riferimento anche alla situazione sarda? Lei è uno dei principali esperti mondiali del settore. Sì, effettivamente sono stata la prima a parlare di nanopatologie, cioè patologie dell'uomo e degli animali indotti dalla inalazione o ingestione di nanoparticelle, cioè polveri molto sottili, che hanno la capacità non di rimanere dentro i polmoni se inalate, ma di bypassare questa barriera e entrare nella circolazione sanguigna e di lì andare in tutti gli organi interni. L'accumulo può dare delle patologie. Quindi per prima io ho cominciato a propagandare questo nuovo approccio alle patologie delle persone che si trovavano attorno al poligoro di Quirra, dicendo che a mio avviso ci poteva essere una correlazione con certe attività, in quanto alcune attività militari possono sprigionare delle polvere ultrasottili. Di solito sono metalli pesanti e questi sono già stati dichiarati come lesivi della salute umana e anche ovviamente degli animali che possono mangiare, brucare dell'erba su cui si sono depositate queste polveri. Quindi un procuratore della Repubblica effettivamente ha bandito il pascolo in certi ambienti in cui c'è la possibilità che queste polveri siano depositate, quindi ovviamente che possono entrare poi nella catena alimentare. I miei studi sulle nanopatologie mi hanno portato quindi non solo a valutare degli abitanti di Quirra, non solo a valutare dei militari che sono andati in ambienti bellici, dove sono state esplose un sacco di bombe contro dei bersagli e che quindi hanno creato un nuovo inquinamento ambientale unico.